Calcio, balile e lego, ma anche piccoli robot e bambole, questi alcuni dei tanti giochi che il centro commerciale con le strada ha deciso di donare alla Residence Daniele Chianelli, struttura perugina che accoglie i bambini in cura presso la Santa Maria della Misericordia, un pensiero più che gradito dallo staff e dai piccoli pazienti considerando il periodo dell'anno. Dobbiamo solo dire grazie a persone sensibili che non si dimenticano dei bambini malati che stanno in ospedale qui a Perugia, delle quali noi ci occupiamo da 33 anni e per noi far sorridere i bambini è molto importante. Ringrazio molto il direttore e tutti i commercianti del centro di Collestrada perché grazie a loro i nostri bambini sorridono, giocano e tornano a rivertersi. La donazione fatta dal centro commerciale è un gesto di pura solidarietà poiché l'intento di base è quello di regalare un sorriso a chi sta vivendo un momento difficile, da sottolineare come non si tratti di una novità assoluta poiché negli ultimi 4 anni sono stati fatti arrivare puntualmente tanti doni diversi. Ormai per noi è una tradizione, questo è il quinto anno che veniamo qui a consegnare questi doni per aiutare questi bambini ragazzi più bisognosi per dare loro un Natale più decoroso. Noi lo facciamo con tanto entusiasmo e per noi è ormai una tradizione che vogliamo mantenere anche nei prossimi anni e quindi sappiamo che la solidarietà è quella che dà la felicità, al contrario della competizione come dicevo prima che la competizione non è quella lì che dà felicità.